Pronto? Ma fa che? Come fa che? Come che diresti tu? Ancominciamo. Ah oh, ah oh. Agri. Agri. Allora. Oh, oh. Che c'era? Bu. Che? La paura sì. Ah, mo. Sì. Eh? Che? Non ho capito che hai detto. Il cristianese è carino come lingua di città palazzo, mi piace. Ma che cazzo è questo? Strigno. Ah, sì. Dai, eh. Eh dai. Eh dai, eh. Eh dai, eh. Ma pronta, va bene niente. Siamo in una periferia inventata, però siamo in una periferia romana, chiaramente, no? Quindi si parla il dialetto romano. Sì, va bene sta roba etnica, allora ogni tanto purenaio e olio. Una pasta che fa ciò che ha lì. Il cristianese è un linguaggio molto divertente. È un mix, è un ibrido anche questo, cumulo è tutta la serie. Incrocia una parlata da strada, tipica proprio del giurgo romano, con parlate più forbite, più colte. Touché. Ma che ha detto questo? Così dice verna, verna colare. Ah, poi c'è sta cura pesa. Vernacolare, lo definito verna colare. Il cristianese è un po' questo, lui fa un po' tutto, un po' così, capito? Ma su questa seconda non capisce niente, dice sempre, eh? Ma che porti? Ma che intendi? Ogni tanto ci troviamo anche noi a non capirci. Ma che porti? Perché non si usano le vocali, si parla solo... A me proprio non lo capisce, proprio non è... Cioè, portacci tua, capito? La regola base che ci siamo dati su Cristian è stato divertirsi. Stava scherzando? Il linguaggio, sia il linguaggio, diciamo, filmico, sia il linguaggio dei personaggi, cerco di farlo coerente con questo. Quindi si parla un linguaggio che è un po' un mix tra grandi temi e fondamentalmente grande cazzeggio. Oh, ma c'è un clima del merda, ma che cazzo? Ma Rocco piove, facciamo il samaristo. Questo è il cambiamento climatico. C'è ragione una ragazzina là. Ah, cosa? Come si chiama? Greta Turbo. Greta Turbo. Turbo, 1600. Ci sono dentro delle cose chiaramente molto romane. Un certo tipo di noia, una pigrizia atavica. E allo stesso tempo una generosità e una voglia di fare gruppo, di fare cacciao. Oh, ma mica stanno a scola! L'altro anno non c'è stato bisogno di sottotitoli, spero nemmeno quest'anno, perché... Insomma, è andata bene così. Ma che stai a dire? Oh.